Un pellegrinaggio incessante di pulmane fedeli in tanti dicono di aver ritrovato la fede a Gallinaro, 1200 anime in provincia di Frosinone, dal 1947 che la gente accorre alla culla di Gesù Bambino. Quell'anno la piccola Giuseppina Norcia, due giorni dalla prima comunione, racconta di aver visto un bambinello scendere dal cielo su una nuvola. Il culto è immediato, non lasciate offerte, scrisse la mamma su un cartello, gente povera ma semplice, che ci teneva a mantenere i rapporti non sempre facili ma sempre franchi con la curia, fino alla morte di Giuseppina nel 1989. Da allora un escalation di provocazioni, al punto che oggi il gruppo di Gallinaro si è autoproclamato Chiesa Cristiana Universale della Nuova Gerusalemme, con i parenti di Giuseppina a gestire tutto, compresa la diffusione di eresie. Non è vero che il Signore Gesù è presente nell'Eucaristia, non è vero che la sua grazia entra nel cuore dei fedeli tramite i sacramenti, non date credito ai sacerdoti cattolici, non riconoscete l'autorità del Papa. All'indirizzo dell'attuale pontefice Francesco le invettive più dure alcune al limite dell'insulto. Da vent'anni la congregazione per la dottrina della fede seguiva il caso e domenica scorsa tramite una nota diffusa dalla diocesi competente, quella di Sora Cassino, è stato reso noto che coloro i quali aderiscono a tale sedicente chiesa incorrono nella scomunica immediata e automatica per il delitto di scisma dalla chiesa cattolica. La nota è accompagnata anche da una lettera ai parroci diocesani nella quale si precisa che per incorrere in tale sanzione è necessario aderire consapevolmente e in maniera formale a tale associazione. Non è cioè sufficiente aver avuto una frequentazione occasionale o episodica. Inoltre il vescovo, Monsignor Gerardo Antonazzo, ha dato facoltà ai sacerdoti diocesani di rimettere la censura della scomunica a chi sinceramente pentito decida di abbandonare definitivamente quel gruppo. E ciò per sottolineare la natura medicinale del provvedimento di scomunica, lo ricordiamo, tra i più gravi per un fede. Siccome sono andati dal notario e hanno costituito una società che si chiama Chiesa Nuova Gerusalemme, e allora quali sono i rapporti con la chiesa cattolica? Bisognava dare una risposta precisa ai fedeli, che hanno diritto di sapere la verità, ecco, senza ambiquità, senza dire ma sa, si può. La scomunica è per quelli che hanno costituito questa pseudo chiesa e pretendono di continuare di avere nuovi adepti, quindi solo questi. Tra le pieghe di questa dolorosa vicenda anche la costruzione di un'opera onlus, la Casa Serena del Bambin Gesù, dove confluiscono le donazioni dei benefattori. Ma che fine ha fatto quel cartello della mamma di Giuseppina, non lasciate offerte? E che starà pensando Giuseppina di questo triste epilogo, lei che raccontava solo di aver avuto una visione, sulla quale, giova a ricordarlo, nel merito la chiesa cattolica non si è mai pronunciata, anche per la ritrosia dei protagonisti, a effettuare i dovuti esami scientifici. Avevo appena sette anni, quando una mattina di primavera ho visto Gesù Bambino scendere dal cielo, su una bianca nuvoletta, in forma di piccola culla. Quanto era bello! Lo avvolgeva una luce di paradiso. Grazie!